Amici di Antenna Blue, buonasera, siamo qui davanti all'Angelo Azzurro Club e come potete sentire dai suoni che stanno provenendo dal locale c'è un soundcheck in corso ed è un soundcheck pazzesco perché è il soundcheck di Don Harry che stasera si esibirà qui all'Angelo Azzurro. Per chi non lo conoscesse Don Harry è un tastierista famosissimo, pazzesco, ha suonato negli ultimi 30 anni praticamente con tutti, con i Deep Purple, con i Thane Lizzy, con i White Snake, con Brian May e stasera si esibirà qui con un gruppo pazzesco, infatti alla batteria ci sarà Darren Mooney, alla chitarra Rob Harris, alla voce Calm Sentence e al basso Lawrence Cobble e tra un pochino li intervisteremo, quindi seguiteci. Grazie a tutti Grazie a tutti